Nel video di oggi andiamo a vedere quali sono le competenze del dirigente scolastico, perlomeno quelle che non possiamo non conoscere se stiamo preparando i prossimi concorsi scuola piuttosto che il TFA sostegno. Il dirigente scolastico lo abbiamo tirato per la giacchetta un po' in tutti gli istituti che abbiamo trattato nei diversi video fatti sulla normativa scolastica, adesso andiamo a fare un po' un quadro reassuntivo, andiamo a vedere quelle competenze, quei compiti a lui affidati e che appunto non possiamo non conoscere, ti ripeto, sia se stai preparando i prossimi concorsi scuola che il TFA sostegno, se non erro dovrebbero essere imminenti mi dicono i prossimi bandi per quel che riguarda anche il TFA sostegno. Prima però chiaramente ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai fatto e ti ricordo anche il nostro videocorso di legislazione scolastica, sta aiutando ormai tantissime persone, sono molto contento delle recensioni positive che arrivano, ringrazio in particolar modo Marilena che ci ha scritto anche che ha superato il TFA nella scorsa seduta e anche grazie appunto a questo videocorso. Ci fa sempre molto piacere tutte le volte che in qualche modo si può essere di supporto, di aiuto, perché questo è un pochettino quella che è la nostra finalità, poi per carità la preparazione è sempre individuale di ognuno, però insomma se possiamo essere di supporto con un corso facile, immediato, che ti mette subito sul pezzo, su questa materia, può essere una cosa utile, ti metto il link in descrizione, magari vai a dargli un'occhiata se puoi essere interessato. Ma adesso andiamo a vedere un pochettino quali sono appunto questi compiti, queste competenze di dirigente scolastico che appunto non possiamo non sapere. Allora, io quando ho preparato questo video potevo fare un po' in due modi, o mettervi giù tutta l'elencazione di quelli che sono un pochettino i compiti fondamentali, però il discorso sarebbe stato troppo mnemonico e a me in questo senso i discorsi mnemonici o semplicemente mnemonici non mi piacciono, perché per me il diritto, ancora prima che ricordo, è comprensione e logica. Io dico sempre, il diritto è logica, se noi capiamo quello che è lo schema di fondo, lo schema base, lo schema logico che sta dietro un qualsiasi corpo normativo, poi diventa molto più facile potercelo anche ricordare. E allora cosa ho fatto in previsione appunto di stabilire quelli che sono un po' i compiti del dirigente scolastico? Beh, ho elaborato tre macro-categorie, sapete che sono un po' fissata con questa storia delle macro-categorie, comunque tre concetti generali in cui in qualche modo possiamo vedere che un pochettino tutti i compiti del dirigente scolastico possono essere inseriti. Quali sono queste macro-categorie? Ne ho preparate tre, sono queste, ci avvaliamo come sempre della nostra solita lavagnetta, ma che serve quasi più a me che a voi, soprattutto per ricordarmi quello che devo dire. Allora abbiamo compiti di rappresentanza e presidenza, compiti di organizzazione e coordinamento personale e didattica, e poi compiti di organizzazione e coordinamento di tipo amministrativo contabile. Queste sono le tre macro-categorie e adesso vedremo che appunto tutti i principali compiti e competenze del dirigente scolastico rientrano in una di queste categorie. Concettualizzare aiuta sempre la competenzione prima e il ricordo poi. Allora, perché parliamo di rappresentanza e poi vedremo anche la presidenza? Beh, rappresentanza perché il dirigente scolastico come primo compito ha la rappresentanza legale dell'istituto scolastico. Cosa vuol dire? Innanzitutto vuol dire che firma gli atti ed impegna giuridicamente l'istituto scolastico. E poi rappresentanza legale vuol dire anche che sta in giudizio, soprattutto nei giudizi di primo grado, se ci fossero controversi, ebbene viene chiamato in giudizio il dirigente scolastico, quale è evidentemente rappresentante legale, dell'istituto scolastico stesso. Non solo, ma la rappresentanza si sviluppa anche nel fatto che il dirigente scolastico è colui che deve garantire, qui ho scritto, l'unità di gestione, l'unità di età. Sappiamo bene che la scuola prevede diversi organi, diversi organismi anche collegiali. Ebbene, però alla fine deve parlare con una voce unica, anche quando produce la sua offerta formativa deve parlare con una voce unitaria. chi è che garantisce questa unità? Sempre più la figura del dirigente scolastico. Quindi l'unità della gestione dell'istituto scolastico è a lui affidata. Poi ci sono anche i compiti di presidenza e qui è molto importante, insomma, stare attenti perché ci si chiede sempre chi presiede il consiglio di classe, no? Classiche domande che capitano poi o nei quiz o comunque che possono capitare in prove concorsuali nel mondo scuola. Allora ricordiamoci sempre che il dirigente scolastico presiede il consiglio di intersezione, quello di interclasse, quello di classe, il comitato di valutazione docenti, la giunta esecutiva e il GLO, cioè il gruppo di lavoro operativo. Potremmo dire all'inverso che in realtà il dirigente scolastico presiede tutto, dove per tutto intendo chiaramente i principali organismi collegiali previsti nel mondo scuola, tranne che uno, cioè il consiglio di circolo d'istituto, quello non lo presiede il dirigente scolastico, quello è presieduto da un rappresentante dei genitori eletto all'interno del consiglio d'istituto. Ora uno si potrebbe chiedere ma per quale motivo il dirigente scolastico presiede tutto e guarda caso l'organismo più importante che è il consiglio di circolo d'istituto, no? All'interno della scuola non lo presiede. Beh, qui il legislatore ha appunto previsto che a rappresentarlo come presidente siano uno dei genitori eletti all'interno del consiglio d'istituto. Però a mio giudizio è un po' una sorta di contentino perché? Perché poi, come ben sappiamo e come voi sicuramente saprete perché ormai siete degli esperti di normativa scolastica, nel consiglio d'istituto il braccio operativo, cioè quello che poi determina ed effettivamente attua le cose e le delibere anche previste dal consiglio d'istituto è la giunta esecutiva e chi è che presiede la giunta esecutiva, eccolo qui che ritorniamo, ed è il dirigente scolastico che presiede anche il gruppo di lavoro operativo, ho fatto recentemente un video sulla guida rapida sul nuovo PEI e lì avevamo visto come il gruppo di lavoro operativo prevede soprattutto dopo la riforma diverse figure che devono in qualche modo confrontarsi fra di loro, non tutte soltanto del mondo scuola, chi è che fa la riduzione ad unità che in qualche modo poi riesce o deve come suo specifico compito cercare di dare unitarietà ancora una volta il dirigente scolastico, questi sono i principali compiti di rappresentanza e presidenza. Adesso andiamo a vederci quelli che invece sono i compiti che io qui ho scritto di organizzazione e coordinamento del personale e della didattica. Allora concentriamoci sul personale, innanzitutto c'è la gestione del personale docente, gestione del personale docente che poi si riverbiterà anche nella possibilità di dare provvedimenti disciplinari sia del caso o comunque sia di anche trattare le relazioni sindacali, questo è stato uno dei compiti aggiunti se non erro anche dopo la riforma del 2015, quindi comunque sia poteri di gestione del personale sempre più ampi, in particolar modo docente, ma anche attenzione di quello ATA tramite le cosiddette direttive. Noi sappiamo che a controllare, a gestire poi il personale ATA è direttamente il DSGA, cioè il direttore dei servizi generali amministrativi, ma lo fa sulla base delle direttive che vengono date ancora una volta dal nostro dirigente scolastico. Adesso andiamo a vederci invece quei compiti di organizzazione e coordinamento che riguardano la didattica. Attenzione, qui bisogna sempre chiarire, la didattica è sempre la didattica dell'insegnante, la libertà di insegnamento in questo senso è sacra, prevista dalla nostra Costituzione. Però poi quando parliamo di organizzarla e coordinarla, ebbene qui ancora una volta il dirigente scolastico ha specifici poteri. I più importanti, quelli che non possiamo non conoscere, sicuramente gli indirizzi del PTOF. Allora il PTOF, cioè il piano triennale dell'offerta formativa, è il documento più importante quando parliamo di offerta didattica nel mondo scuola, no? E come sappiamo il PTOF è elaborato dal collegio docenti e poi viene approvato dal consiglio di circolo d'istituto, ma viene elaborato dal collegio dei docenti in base agli indirizzi e agli obiettivi strategici che vengono forniti dal dirigente scolastico. Quindi vedete, grande importanza anche sotto questo punto di vista. Non solo ex ante, cioè prima che poi deve essere elaborato il piano triennale dell'offerta formativa, ma anche in sede poi di attuazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che il dirigente scolastico deve poi determinare quelli che sono gli strumenti di attuazione del PTOF. Supponiamo che nel piano triennale dell'offerta formativa siano previsti, che ne so, particolari collaborazioni con enti istituzionali, piuttosto che culturali o artistici. Beh, chi è che insomma firma gli accordi, intesse i rapporti, che rappresenta ancora una volta l'istituto e che evidentemente poi va ad attuare, no? Quanto previsto nel piano di annale dell'offerta formativa? Ancora una volta il dirigente scolastico. Poi, sempre da un punto di vista didattico, è il dirigente scolastico che forma le classi? È vero che le forma in base ai criteri previsti dal consiglio di circolo d'istituto e sulle proposte di quelle che è il collegio dei docenti, però è lui che forma le classi, così come è lui che assegna i docenti alle classi e formula anche l'orario. Compiti importanti sotto questo punto di vista, così come anche nel fatto che è lui che indice le elezioni dei rappresentanti dei vari soggetti importanti del mondo scuola, quindi rappresentanti dei studenti, dei genitori, personale docente, personale ATA, ad indire le elezioni è il dirigente scolastico. Così come è sempre il dirigente scolastico che convoca i consigli degli organismi collegiali vari, cioè di tutti quelli che abbiamo visto prima, quindi il consiglio di intersezione di classe, il comitato di valutazione docente, è lui che indice e che convoca questi consigli. Non solo, ma la prima convocazione del consiglio di circolo d'istituto è fatta proprio sempre dal dirigente scolastico. Andiamo adesso un po' più avanti e spostiamoci a quelli che invece sono i compiti principali, io chiaramente non è che poi sono tutti quanti, anzi se voi ne individuate di diversi ed ulteriori magari segnateli anche nei commenti, io qui vi dico quelli fondamentali, ripeto che non possiamo non sapere e passiamo a quelli che rientrano nella categoria di organizzazione e coordinamento amministrativo contabile, quindi qui si passa proprio al lavoro più burocratico, amministrativo contabile. Allora sotto questo aspetto diciamo subito che il dirigente scolastico sceglie il collaboratore vicario, cioè quello che in qualche modo poi ha la possibilità di poterlo sostituire. Delega poi anche specifici compiti ai docenti, quindi si serve anche di docenti delegandoli magari proprio in determinati specifici compiti. Poi ha compiti di natura conservativa, conservativa di cosa? Beh innanzitutto dell'edificio scolastico, evidentemente, ma non solo, anche degli arredi e dei materiali didattico scientifici. È lui che ne deve curare la conservazione, così come deve curare la conservazione dei cosiddetti documenti riservati, cioè quelli che non possono essere resi pubblici evidentemente. La responsabilità della cura e della conservazione è sua. Poi, come dicevamo anche prima, è lui che dà le direttive al personale ATA e di segreteria, il personale amministrativo e tecnico e quello di segreteria, beh ricevono anche direttive da parte del dirigente scolastico. Poi sarà il DSGA, come dicevamo prima, il direttore dei servizi generali e amministrativi, a controllare, a gestire con specifica operatività, ma sulla base degli indirizzi forniti appunto dal dirigente scolastico. Inoltre, firma anche gli atti di segreteria che sono di sua competenza, ci sono alcuni che sono proprio di sua competenza e dunque è lui che li va a firmare. Passiamo poi ai compiti invece più di natura strettamente contabile, perché è sempre il dirigente scolastico che stanzia le risorse di bilancio previste appunto nell'ambito scolastico. Non solo, ma è anche lui che firma gli ordini di incasso e di pagamento insieme al DSGA, quindi quando c'è da firmare o per pagare o per incassare, firma insieme al DSGA gli ordini di incasso e di pagamento. Inoltre, ho scritto qui, fa anche le spese correnti, nel senso che normalmente cosa succede? che il Consiglio d'Istituto delibera dei limiti entro cui il dirigente scolastico può svolgere pagamenti correnti senza dover chiedere autorizzazioni particolari. Quindi, come vediamo, questi sono un pochettino i compiti fondamentali che fa il dirigente scolastico. Probabilmente ce ne sono sicuramente anche degli altri importanti poi in ogni singolo settore, ma qui parlo proprio di compiti di responsabilità particolari, quelli che appunto in via di principio non possiamo non conoscere. tre macro-categorie, rappresentanza e presidenza, organizzazione e coordinamento personale didattica, organizzazione e coordinamento amministrativo contabile. Vedrete che in qualche modo ognuno dei compiti anche ulteriori rispetto a questi che potrete trovare rientrano in una di queste categorie. Bene, io mi auguro di avervi fatto una cosa utile, sia in vista dei prossimi concorsi scuola che per il TFA Sostegno magari, insomma, se vi state preparando ad entrare nel mondo scuola, la normativa scolastica la continueremo a seguire con formazione di diritto, perché formazione di diritto ha ovviamente sempre l'ambizione, tramite insomma il sottoscritto, di cercare di sostenere tutti coloro che preparano esami e concorsi a base giuridica. Avete visto che insomma abbiamo iniziato anche con il diritto amministrativo per i concorsi verso la pubblica amministrazione. Tra un po' ci occuperemo anche del concorso anche per l'esame d'avvocato, qui chiaramente sono chiamato direttamente in discussione. In ogni caso continua a seguirci, condividi con chi pensi che insomma possa esserne interessato e ti ricordo ancora il videocorso che magari può essere il supporto immediato, rapido anche perché è fatto completamente sfruttando le tecnologie digitali, ti prendi il tuo smartphone, cuffiette e ti ascolti la normativa scolastica spiegata in maniera semplice e dal sottoscritto magari può essere il supporto giusto per te. Ci vediamo al prossimo video.